Passiamo invece adesso alla contaminazione a tre, ginnastri della palestra di Crespiattica, atleti della squadra agonistica masquile e scuola, per dirlo giusto, sciocotana, karate di Domera, composta dagli allievi, Busetti Sara, Busetti Elisa, Fragonzi Alice, Bocchieri Anna, Pezzini Gaia, Pezzini Chiara, Maglio Giulia, Tiralongo Suami e guidata dal maestro Giuseppe Quasinetti e dal preparatore atletico Ater Pezzini, ginnastica artistica, articalate, Seguento 19, andiamo a vedere e divertiamoci, grazie, un bel applauso, vai! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!